il niger inaugura il video col boxy forse off with il nostro team fra virgolette non faccio video da tanto tempo a casa scuola vanedetta però ieri c'erano le pagelle come si vede perchè non ho idea non tanto bene non tanto guarda provo a aprire l'amore non si vede mai apriti apriti come si apri di là come si apri di là come si apri di là ma sì ma che va si taglia finito quindi ho la mia prima bustina di corso film box qua io volevo 8 ho cominciato ad aprire la gente non le regge ma mamma mia il titolo da amore che è selvaggio se vuole di chiudi non è riuscito a dire che sono merdine fai vedere lì le carte eh gli antichi di prima e come faccio se vuole di chiudi cosa è brutta anzi marco se forse è il meglio che prendi ui lo metto il dopo hai detto tutto quello è la cassa mia ma è fatta se non fare il fatto è fatta eh o l'altra pietra la pietra è dura quella è good se mi faccio il cappuccetto se mi faccio il cappuccetto è dura uh non ho idea di cosa sia ah dobbiamo separare i colori eh vabbè nero uh un altro gioco vabbè mandiamolo tutto e poi a finire il mio bio wolf questa merda regina di cori e poi lo mettiamo qui esatto esatto si vede marcus si si vede ok devo mettere il bio wolf da parte ma è contro tutto ma questo è gompia ma questo è gompia gompia sono morto pure lì vuole giustare io ce la posso fare no c'è camera manca giusta mentre apriamo a te vabbè io l'ho tagliata tutta senza aprirla ah merda vai mostra mostra le cari tutte cose brutte tutte cose brutte gula come si stava riserva di site sei power mi sembra sei sei lei ma io c'ho giovanna da eh è un altro bio sono i sessi di prima ah questo è il guru però lei è la carta insana che vuoi tu no ma quanti ne sono? 36 boost troppe troppe meglio un po' è troppo va bene ma separiamo ok niger separa non riesco da vedere solo un po' i pescatoz i pescatoz i pescatoz no sta pietra no sta pietra non la vuole sta pietra non la vuole vedi come si esalta io serve in silenzio serve in silenzio e poi li mettiamo qui ah qui proprio là fuori si mette ma un po' di ordine modo cioè guarda qua la tagliata ma non andate a capire eh son maledetto sti insomma non mi trovo secondo me ma basta qua lucidissimo sta bustica c'è stata la carta quant'è luce un'orma ma ti toppa l'umetrisse ma ci sono le fonte ma arriva bam vi ho paolo non c'è tagliate con le fonte arriva bam non arriva un cazzo eh la fidara a morte man ecco зы cazzo due perci dove hai metto questo? la seconda non è la cosa sbagliata sono lì, sono esperta che ti aiuti no, devo farcela da solo non si capisce niente in questo boss perchè la telecamera è posizionata a me un altro biowulf un altro biowulf è pescato eh niger nero rossa insana ma io voglio la rosso-verde, che cazzo cerco il quattro peri ecco l'annuncio del giro guarda, guarda, il marcus che ti vuole spostare le mie pistole c'è una sirena dai, mostra tutto l'altro biowulf hai fatto male a comprarlo eh, vedete, sto sotto le pietre abil blu blu nero che cazzo è la prensana per buco ti mammo, le ore che si andrà ma che palle, non sto trovando un cazzo delle pietre che mi servono lo sto trovando con la rossofuoco questo è troppo poco questo è troppo poco questo è troppo poco troppo poco che cazzo guarda con ridotto la bustina guarda con ridotto la bustina guarda che precisione ma questa cosa ma come ridotto sta bustina io sono un po' sottogeneo aspetta aspetta eh no l'ho rotta affanculo a me stesso ma mo sbusto a me fisse ma 56 minuti di video si lo dico il video non si è avviato eh il traghetto per il bamo ti immagino e la fidara a morte pure ma i sovrani qua non ci sono c'è torotti che se non la ricadiamo a dentro se la troviamo anche in 5 peso se la ricadiamo a dentro ah ah questa alcoli in mezzo c'è una pietra no l'ho rotta e questa adoro ti mi era male che hai fatto di tutto qui vabbè e infatti le ho messe in lato ah e qui non meglio eh vabbè shh eh l'ammazzata raghi eh questa che mi serviva è una pietra è una pietra no quella pietra la pietra la pietra la pietra come si chiama qualcosa salazzare lì ah no la pietra salazzare del mondo emesso stupido salazzare ho detto pure salazzare ma anche salazzare ma quando ne stiamo trovati inquadrate le carte inquadrate le carte ma manco un ruler l'abbiamo sbustato fino a mamma non lo sbusto oh rotini si sbustatemi cappuccetto la vera non voglio mai dare non c'è un cazzo ah no sto vedendo le porte e poi eh si ma datemi datemi un arrosso fuoco pietra rosso un pesco eh Mepistus altro ah sto maledetto mi dice sei a posto con Mepistus un'altra cosa per ma qua si sta accumulando che sta facendo il morio mostra l'interno quelli del lì si si abbattono la colonna di carta con l'attendato il primo febbraio oh datemi ma tipo il primo box senza arrivare un'altra Mepistus sera mi dice che ammetti che sono insapevole non c'è me ne ti ti ho trovato giù per mandor come una vacanza hai sbusti un uovo un uovo che schifo 4 un po non so se si vede un video c'è cappuccetto cappuccetto non mi fa capo non mi cappuccetto non mi cappuccetto e lei rinquodriano ma ancora non muovire ma basta con queste pietre fapori luminosi le scambio solo per la rossofuoco dici perché c'è una a casa l'altra quella che avevamo trovato è fanculo voglio la rossofuoco il drago ma troviamo a mamut mamut non c'è c'è il coniglio un coniglio un coniglio strambo scusa dividiamo deve crescere deve diventare sano e forte ma va va diventa sano e forte è un'altra rosso ninja tutto rossofuoco dobbiamo denunciare forsofuoco perchè un'altra rosso fuoco risarcimento ma l'hai tagliato tu con le forbici no perchè lo tenete da solo sotto non riesce ad aprircire tutto quello che dici no 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 non va bene si ma ma non gora pietra rosso fuoco che cazzo tutti i ora diranno ma ma spaccolato di merda che ho trovato che faccio questo anche prima mi piace la pittà è morta è la tua mazza completa ingrati mi ha sbustato anche un rosso fuoco che vuoi da me questo rosso fuoco rosso-verde mi ha sbustato la puttana qual'è l'altro è uno d'acqua casino uno d'acqua brutta roba biogolfo regno e' un'altra ammazzata ah no e' un'altra di questa dai questa mi sa sarebbe quattro pedra regina di quattro mazzofante facciamaci mazzofante mazzofante oh 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 e' quella miseria è l'ultima no questa è l'ultima e' che pale però mangona rosso fuoco eh rosso fuoco che basta questa rosso fuoco la rosso fuoco le cerco per piacere un altro bio e' il castello volante ma inquadra lì ti vuoi vedere prima io eh spoiler spoiler che sta non lo so è qualcosa ok questo è reso conto abbiamo tre rosso nere non rosso fuoco rosso fuoco non le abbiamo trovate due vapori luminosi una di bianca verde due come si chiama questa almerius o almerius questo è una mia idea e' la blu nera per le pietre poi ruller ehm alice e' cappuccetto quella tettura cappuccetto la tettura così si cambia poi tre perdi regina di cori per le nere tre mefistus tre lapidare a morte fanno culo a me stesso e due torri di shalazar che io li chiamo così poi piale verdi tre di queste tre doroti quattro per della instant che non ricordo il nome xex ok tre perdi castello volante ok si vedono tutte si? si vedo ok poi bianche due giovanna d'arco tre torri mannaggia come scivolano una random così che cazzo sto facendo e' una di queste che non vedo l'uomo poi due spiritelli due regno del drago due fiammere il re drago e' il dragone con duemila Yamato e' Pawe 10 in mano vincchio quello la te lo metti con però te lo metti con il drago il cucciolo di Asak il cucciolo di Asak ma insano poi tre della carta insana di Marcos 2 perdi 2 perdi monte di Alice 2 conigli per il forno e 4 della dell'uovo inquietante un uovo sono inquietante e' ben sei biopulf 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 va beh cerchiamo le pietre rosso fuoco ossia le come si chiama le rosso verdi le rosso bianche poi che cerchiamo più Vamut per il tizio lì Vamut e e Abdul per se è giusto Abdul e carte per Vampire e niente lasciate un piaccio, un commento, scusate per l'assenza in questi giorni Nijer, di tu l'addio dai la chiusura addio